Ciao a tutti e bentornati. Allora, in questi ultimi giorni non si sono registrati grossi scossoni. Senza anima e feita hanno rispolverato la faccenda Simona Zucchi, un fake di Chiara che, trasformato nel canale di coppia live, è stato sgamato clamorosamente. Tanto che la nostra Chiaretta ad un certo punto non ha potuto più negare, anzi ha cercato di sdrammatizzare la cosa dicendo che, ma dopo tutto, chi di voi non ha un fake su YouTube da cui si fa i complimenti da solo? Oddio, veramente non saprei, però mi sembra un po' stupida come cosa, pure perché se i complimenti uno se li fa da solo, ma che valenza hanno? Forse più che altro hanno lo scopo di far vedere agli utenti e agli haters che ci sono persone che li apprezzano. Beh sì, credo sia questa la versione giusta. Ed in merito proprio a questa faccenda della Simona Zucchi, la Chiara non ha risposto, ha lasciato morire la cosa nel dimenticatoio. Dedicando tutto il suo tempo da vip a mukbang porcellosi e vlog zuccherosi. E da Chiara passiamo invece ad osservatore del tubo, il mio carissimo Fabrizio, che in un video ha espresso tutto il suo motivato disappunto per il fatto che su YouTube stiamo vivendo una corrente che porta gli utenti ad apprezzare maggiormente canali e contenuti che fanno visual praticando molto spesso body shaming. e distigando all'odio canali che crescono in breve tempo senza troppo merito. Ha rilevato Fabrizio un cambiamento nel modo di porsi dei nuovi youtuber, perché se tempo addietro si faceva un determinato tipo di dissing e soprattutto un determinato tipo di perculo, adesso invece si affonda il coltello nella piaga, prendendo di mira e commentando minuto per minuto tutto quello che accade in quella particolare famiglia. Ora, onestamente io non ho capito nel dettaglio a chi di preciso si riferisse, perché? Perché su YouTube di canali che parlano di Chiara ce ne sono veramente milioni. Ad onor del vero, quasi a inizio video, Fabri ha escluso dai canali nefasti sia il mio di canale che quello di critiche costruttive, che cogliamo l'occasione per salutarlo. Ciao criticone! E chiudiamo così anche il discorso osservatore del tubo, per passare poi ad una delle protagoniste indiscusse di questi ultimi tempi. E andiamo a parlare della Dama Nera, protagonista dello scandalo sterilizzazioni, della chiusura dei suoi canali, della perdita della monetizzazione, ed oggi ancora protagonista di nuove polemiche. Perché a quanto pare nel corso di alcune sue recenti live ha ribadito più volte di essere ridotta a fare video e live utilizzando la connessione dati di Calogero, perché momentaneamente non ha la possibilità di ricaricare quello che è il credito nel suo cellulare per poter utilizzare quello per fare sia video che live. Ora, il problema qual è? Che con l'operatore telefonico di Calogero non riesce a caricare velocemente i video, quindi in questi giorni sarà poco presente. Tutto questo l'ha comunicato mediante un post nella sua community. Per la precisione, il suo post in community recita, buongiorno, scusatemi se non post video, ma al momento ho problemi con la connessione di Calogero. Appena riesco a caricare il mio cell, torno con i video. Grazie! A seguito di questo lineare comunicato, degli utenti hanno sollevato delle perplessità dicendo che il suo, più che un avviso di assenza giustificata, appareva come un messaggio subliminale e neanche più di tanto. Di che tipo? Di richiesta di soldi. E più nel dettaglio un qualcosa del tipo aprite una raccolta fondi e pagatemi la connessione nel mio cellulare. Ovviamente questo parere ha fatto infuriare la dama che ha dato fondo a tutta la connessione di Calogero e si è prodotta in un video, dove molto pacatamente ha assicurato che la sua intenzione non era chiedere velatamente soldi, ma solo avvisare per la sua assenza. Ha ripercorso in questo breve video le motivazioni che l'hanno portata a smettere di parlare di Chiara, non perdendo occasione per attaccare chi, come Eva, riceve regali dagli utenti, donazioni o tutto ciò che comunque porti qualche soldino nella tasca degli youtuber. Ora, per chi fosse a digiuno sull'argomento monetizzazione e guadagni introiti provenienti da youtube, vado a spiegare brevemente quali sono i sistemi e le metodologie per guadagnare su youtube. Ora, a parte il guadagno proveniente dalle visualizzazioni dei propri contenuti, si può attivare la super chat. Che cos'è la super chat? Nel frattempo che lo youtuber sta lì a fare la sua live, praticamente le persone possono inviare dei soldi in tempo reale. Un altro sistema che ha l'amministratore di un canale per poter guadagnare dei soldi è attivare il servizio di abbonamenti al proprio canale. Questo vuol dire che, offrendo dei servizi particolari e dedicati solo alle persone abbonate, praticamente riceve una quota mensile. Una quota che può partire, non lo so, da 0,99 centesimi fino, credo, a un massimo di 29,90 ora, se non sbaglio. Ora, andiamo a chiarire un attimo la faccenda dei contenuti particolari. Non si tratta di nulla di scabroso, anzi, sono dei contenuti che magari possono essere delle live dedicate solo alle persone abbonate, quindi tutti gli altri che non sono abbonati al canale non possono partecipare e interagire con quella live. Ora, un mio utente intelligente potrebbe avanzare un quesito del tipo, ma come faccio a riconoscere un utente abbonato da un utente semplice, un utente comune? Beh, calmati, ora ti spiego tutto. L'utente abbonato lo distingui dall'utente semplice perché, a fianco al Sonic, mentre è in chat a commentare, a divertirsi allegavamente, compare un piccolo stickers. Dice sì, ok, ma che stickers? Beh, può rappresentare, non lo so, la foto del del proprietario del canale, una banana, una mela, e chi può dirlo? Ma torniamo alla dama nera che è risentita, perché? Perché si vede protagonista, o una delle protagoniste, dei video monetizzati degli altri canali. Beh, però effettivamente canali come il mio, che raccontano ciò che succede su YouTube, parleranno sempre del personaggio o dei personaggi che sono al centro dell'attenzione in quel preciso momento. Quindi, detto questo, mettiamo in panchina anche la dama e andiamo a parlare di Senz'Anima, che ha dato modo a tutta la sua utenza e soprattutto anche ai nuovi iscritti, di veder confermato questo suo effettivo cambiamento. Cambiamento assolutamente impositivo, perché? Perché se prima c'erano reazioni spropositate agli attacchi ricevuti, ora, se proprio ci sono delle risposte da parte di Francesca Senz'Anima, sono risposte ragionate e pagate. La Franci ha detto no al dissing feroce e ha optato per la serenità. Raccontava Senz'Anima in qualche suo live recente che quando faceva dissing, sì, gli incassi erano notevolmente maggiori, però chiusa la live, chiuso il video, c'era una sorta di malessere che non le scivolava via facilmente. Al momento, quindi, propone contenuti in cui racconta il suo percorso di dimagrimento, condividendo con la sua utenza quelli che sono sia i successi che le sconfitte. Quindi un meritatissimo brava a Senz'Anima. Mentre per quanto riguarda la nostra figona, oggi ha proposto nel suo canale ufficiale un mukbang porcelloso con due mega panini stile McDonald, mentre nel canale di coppia video ricetta risotto alla cantonese. Ora non lo so chi le due l'abbia cucinato, però non lo so. Noto solo adesso che come copertina del video hanno utilizzato proprio il risultato finale della suddetta ricetta, perché nel piatto compare proprio il risotto alla cantonese. Da quello che si capisce c'è del riso, poi ci sono dei piselli, dei cubetti di prosciutto cotto e poi ci sono delle particelle gialle. Credo sia uovo. Ora ipotizzo perché non ho guardato questo bellissimo video ricetta e quindi non saprei. Allora io in passato ho seguito delle video ricette proprio di Chiara, però hanno avuto degli esiti disastrosi. Ho seguito il suo tutorial su come fare il tiramisù alternativo e un'altra cosa qual era? Sempre un dolce. Finito ovviamente anche questo in una maniera tragica. Bene, detto questo a me non resta che augurarvi buona continuazione di serata da dall'ora e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Ma nel frattempo che succede tutto questo e voi concludete la ricetta del tiramisù alternativo, un bacio a tutti da Gossip. Grazie. 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 Grazie.